Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono Semi Terry ed eccoci qui per il video di Fiamenti Notanadol sono da Mr. Terry Assumirn, ieri dovevo suscitare il visito a 70 della carriera allenata di Mr. Terry mancando di 69, infatti viene a dire che non c'è il video perché questo cliente è maledetto la prima volta non è distrutta la tenuta in Liverpool e quindi ho dovuto riprendere dal PlayStation Share poi ho fatto il video, ho trovato il sistema autocaricato e ma non l'ho caricato e io l'ho cancellato per rendere un errore madornale, vi chiedo scusa e nel video di domenica non ho detto ciò che ho fatto, ossia che ho battuto, l'ho detto però ripeto, ho battuto il Liverpool per 5-1 quindi fino a passare per un gol di scarto e poi abbiamo battuto il Vrescia 4-1 poi nel scorso episodio di ieri abbiamo affrontato il Piontecaccio, per noi abbiamo metto a 2 ma è accettabile che la Juve ci può stare ma poi abbiamo anche partito con Benevento e queste sono le particole che ho ovviamente fallato e che non posso cercare di pareggiare perché veramente tutto è proprio creato apposta anzi è riuscito a fare 2-2 con questa non facile facile ma comunque grazie a questi pareggi con Vrescia, Torino, San Pedro, Romero e Scurretto è bello che è andato ma ora per pensare alla Champions League quindi a battere il Manchester City nel quartifinale quartifinale che vedremo 4 squadre italiane addirittura ai quarti una cosa mai vista in tanto tempo guardate qui Napoli contro Borussia Dortmund Montecaccio Tottenham, Milan, Manchester City, Inter-Barcellona se passano 2-4 avremo 4 italiane in 6 fine di Champions davvero il miracolare caccia che sta accadendo non so cosa, non so neanche come spiegarmelo ma comunque tornando oggi non affrontare il Manchester City la squadra è stata tutta buona visto che ovviamente ho messo la squadra B ma vabbè lasciamo stare e mentre in campionato vediamo un po' come siamo messi in campionato si fammi vedere i quarti non mi interessa in campionato ormai siamo lontanissimi dalla Juve siamo a 9 punti davvero tanti anzi no, l'Inter c'è anche passare siamo terzi dietro di 2 punti all'Inter davanti alla Roma di 2 punti siamo poi in mezzo a queste due squadre anche Napoli potrebbe rientrare nella lotta per la Champions ma 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 vediamo un po' di riuscire a meno tenere se hanno posto che era importante che non voglio vedere terzo non ho fatto orgoglio cioè primo per mezzo al campionato poi grazie di pareggio e rischio di essere terzo quarto due o quinto no, non mi va ma comunque torniamo a City e andiamo a fare la squadra per oggi beh la squadra è già da qui unico cambio Harper e Cavani poi anche se i banchini sono stanchi mi metto quelli da titolare sono quelli lì e andiamo a affrontare il City anzi per andare a fare la conza stampa scusatemi intanto mi dimentico e poi andiamo a affrontare il City di Guardiola siamo a Manchester benissimo sarà difficile però almeno non è andata siamo casa loro come approcciarmi dove pensare a giocare bene non mi sono sottotato sottotare ma c'è stato ovviamente ma no loro non sono sottotare se andate qui non certo per caso puntiamo a vincere la Champions no non devo dirlo è che poi portogliella di nuovo e dobbiamo fare attenzione se le domande cioè se sono i quei vi curerete come se fate vabbè e niente la squadra di tutti i tempi sono state altra allenanti quali dettagli tecnologico questa prestazione ma è di cosa stiamo capaci cioè veramente solo devo mandare il cavo e poi anche qui tra allenanti cioè in campionato si ho un po' verso all'ultimo ecco si vedendo anche il treno del primo posto però la scuola che è lì è l'otto per la Champions soltanto anche per l'ottavo scuoletto che è bello vabbè nel fronte si scuola già fatta andiamo bene eccoci qui alle T.A.D. Stadion mi sembra che questo è il nome del stadio del City prima del Bruin già vediamo anche la porta Ericsson andavano bene non mi piace poco ma Jesus fa il torello vabbè adesso che è anche un ex quindi qui c'è anche un altro ex perché mi sembra che ho adotto Jesus contro il giottore del Milan quindi vediamo un po' se ci sarà comunque sono così di vedere la squadra del City mamma che stadio ah City on Manchester Stadion scusatemi dovrà spettacolare la Premier League è fatta bene perché ha fatto benissimo ci mancherebbe altro già fatto serie di merda è difficile è le quattro però non dico magari quattro italiane e quarti ma lo dico l'Inter passa all'ultimo guarda che siamo belli l'Inter è la Champions non toccano perché voglio vedere anche la squadra del City Messi per titolare Luma James dai su Pogba che ha preso due gol meravigliosi contro la Juve ma non si tratta niente purtroppo si può saltare o può stare che è potuto skip Mattiuccio mio corretano che è l'unico che c'è è l'unico che non sia cioè non è lui perché Mattia Caldano ha fatto così questo è una Silva questo non so chi sia sinceramente poi Sané Sané chissà che è un attacco questo che ha preso Aghe ah questo è il best è Jovic forse l'attaccante infatti Luca Jovic Porro un po' meccano hanno Steffen Sander Schulz Sterling Gomez Roberts hanno Gomez in banchine Sané Chissà Bruno Carvalho Eriksen Martini Laporte Upa Meccano Porro Eriksen sembra una buona squadra di this city però no non mi ha paura anche la nostra buona squadra subito Paul Pogba per me si cuoce il fallo Carvalho che è William Carvalho non è arrivato a comprare Sané subito dai ragazzi partiamo beh grande Leonello oggi informista nei passaggi guarda Werner Timo la bocca e segniamo con Timo Werner da un bel 1-2 tra gli rischi e Messi che è in vantaggio per il Werner implacabile sia nell'inserimento sia nel tiro meraviglioso meraviglioso Timo Werner e questo gol fuori casa è davvero buono mamma mia questo è sicuramente uno tra i più belli addirittura mamma mia c'è appena giocata il suo campo lunga c'è altro spettacolo ok grande forza ragazzi non goleva sul punto 1-0 però fanno un altro che sarebbe più buono questa è messina di guardiola mi sono stati attenti vai teo ancora qua mi sacca 10 rischi Pogba per Messi allarga per Bely bellissima Bely e qua c'è vabbè ancora fanno fan buttano a terra non come chiamano rigore no così a Messi voglio dare Pogba Jesus abitro abitro ecco fino a questo primo tempo per 1-0 un ottimo risultato un ottimo tempo per mine che abbiamo distrutto il sito mi ha attaccato testa bassa è bene essere un esempio di questo attacco è del suo maledetto va bene ho fatto fare anche un altro gol purtroppo un po' di infission 8 rate ho fatto sbagliati il Barcellona che batte l'Inter 2-0 e l'Inter è il secondo davanti a me vabbè meglio così che si diranno davanti di James e loro anche se il Barcellona forse è più pericoso va bene non pensiamo adesso a la squadra pensiamo a questo sito a questa partita però a chiudere già qui la partita spazio venne un po' in fuori il gioco forse sono 1 cerca Jesus la botta ha ancora messo a terra non c'è niente ancora non c'è ancora niente quando c'è non rigore quando mi rompono un piede non lo so dai mi sono scomparsi grande One che lascia Sanelli lo lascia e vabbè ci sta quello va ad andare all'anatore cioè guarda qui One che lascia l'uomo caldare che non va a coprire quella parte vabbè dai 1 a 1 vabbè e ora mi inizio a calare un poco Gabriel vai Gabriel vai Gabriel che oggi potrei fare di più vabbè una una spallata Santer la palla di Werner Arp cerchiamo Werner il numero Timo 2 a 1 il 2 a 1 del Milan nel casa della casa del City mamma che azione ragazzi grandissimo Timo che attaccante che vabbè qui sinistra non c'è differenza pum forte forte ma l'ha appiazzata lì mamma mia papilla Milano che i nuovi rapport Santer sull'appilla sull'allone va grande Timo i 50 migliori spesi in questo stagione c'è in tutto il senso della vita teniamolo teniamolo dai via vai vai Gabriel corri stanco morto ancora ancora questo è fallo vabbè potete con Gabriel fare un'altra gomma va bene 2 a 1 va bene con noi l'abito è molto molto preciso ma non il c'è più fatto già dal mondo inutile e questo è un mancino in panchino ok che hai De Bruyne Eriks Carvalho alla fine chi toglie Carvalho la difensività sicuramente però va bene così dai noi stiamo abbiamo vinto 2 a 1 in casa del sito un'ottima il gol se non ci sta quel gol l'errore un po' di difesa era meglio Barcellona di tua 3 a 0 all'Inter mamma mia dovrebbe pure Barcellona che non ha più gli stessi messi ma avrà i suoi giocatori ovviamente Dembélé Gisman Swartz spero di essere vecchio spero di essere più vecchio e non ho tempo per farlo e non ho tempo la giornalista e devo giocare il miglior calcio al ritorno infatti che anche il mio toque qui è un piccolo vantaggio ma non mi stiamo mai smettere di giocare così e credere di vener un'interazione nel compresso vener stato straordinario un grande attaccante veramente micidiale vicino lontano la rete l'attaccante che sognavo che mi ha regalato grazie a dir questo presidente di niente qui io ho trovato il gol da vittoria 5 minuti con un po' di fortuna spero che non abbiamo più la fortuna non c'è da niente la nostra scuola ha meritato cioè abbiamo diventato sottoporta dopo abbiamo più attaccato abbiamo più fatto tiri e mentre c'è fortuna è una cosa che può accadere altra cosa doveva accadere è una fangura ma di due come si fa questo più ok anche se non sono il primo dimostri mettere più spazio non so perché si è a medico giocare spesso le seconde linee giocare anche da mediano fare il mediano cosa vuoi di più comunque ok è stato un momento di forma è buona in tuna ci penserò è vero che dovrei avere poi subito non so quanti i penali vabbè quelli 100 mila euro e basta il sito no va caca allora in teorio ma vabbè il sì subito dopo è infratto due partite mi sta che farò un po' tono mentre buona avventura cioè guardate qui che settimana 1 2 3 la Roma qui e poi l'Inter perché un momento è a maggio giustamente poi c'è finale con Napoli e c'è ancora la finale se passiamo c'è veramente una stagione piena 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 proprio così eh la nostra solita intervista grazie grazie a tutti la giornata inseriatimica che io si contito che non sembra di lontanarsi lontanarsi l'otteremo fino alla fine ma guarda ci spottano perché ora siamo lontani ci spottano perché il gioco è così ci apportano a questo punto sì ma noi non c'è da contro il City non c'è da contro il Genoa no batteremo anche la squadra del Genoa sono arrogante non c'era niente dai l'ultima volta la squadra di Nino non c'è da scompagnare 4 a 0 penso proprio di sì beh se questo è cattivo non c'era niente cioè chi mi mette a paragone la tira contro il Genoa e la vittoria contro il City che è il City ammano ci siamo vinti 2 a 1 sì un gol di scarto ma sempre il City è non è una squadetta non è un bene l'avvento abbiamo preso 2 a 2 quello è pericoloso ovviamente è più pericoloso del City avendo a fare la squadra contro il Genoa bene giochiamo un po' con le linee a parte le stanzi che è un po' costruzione quindi lo siamo tutto così la patria di corso a sinistra deve essere più alto che la fa meglio e avere quindi della vega in caso per attivare contro il City che potrebbe essere un ottimo ricambio ho messo anche il Rizzo si chiese e me si riposa abbiamo due tre quartisti nella massima con il Rizzo fa anche bene quindi la squadra può essere all'altezza del Genoa vediamo un po' cosa succederà oggi sono davvero curioso c'era vicina di questo match si è parlato molto dei possibili protagonisti beh oggi avremo finalmente la risposta definitiva a tutte le curiosità non cambiate canale mancano pochi stati al campo di che affronta il tira sempre la destra messa cioè il Gesso prima si è messo come sotto il Torello comunque stiamo qui è stato Luigi Ferraris in realtà è la Stadio d'Europan cioè mai questo stato tipico del Genoa è Stadion Europa fronte a affrontare il Genoa una scuola che non deve essere diciamo la nostra altessa in teoria cioè noi siamo una scuola superiore anche con le di server non siamo superiori ma però in quel gioco come ho visto come le scuole più scarse per dire come l'evento come il Genoa possono essere più pericolose più del sito se sono decimi non vi farei niente in teoria l'Inter che non mai vince e sta avanti l'Inter non mai troppi pareggi per noi questo è una scuola troppi pareggi è solo che è il mio attacco insieme al al Premonte l'Inter dirò a noi non so di 0-0 col Torino con la Sampdoria l'1 col Parma potete dire che come un'altra parte è molto più gol però vabbè dai ragazzi puntiamo vittoria e concentrano sul Genoa che è questo che c'è con Toggi vai Corsa ma che cavolo ha fatto ma come si è allungata che io cioè la tocca vicino non che la dava così lunga ma che cavolo fanno Donny Donnarumma che fa Zizio vaffanculo pure quello segna quello stani che cavolo è è lo Stonto Conte di Genoa e lo sta attento contro la stessa squadra cioè guarda Raffaele come mi chiude e non è che le squadre che sono scarsi lo sta più attento che mai ma vaffanculo vai Cavani bella palla di Davis per Corsa vai Corsa sul secondo palla cercate o si mene no ma che si è mangiato ma cosa si è mangiato la palla è toccata leggermente per precisione e mi sbagli il gol così ma porca miseria così mene vai Tonali partiamo ragazzo come che parte Davis vuoi partire per Diana che sei libero oh si mene finisce qui oh tre minuti che stanno giocando comunque davvero 1-0 è un stato mio grandissimo errore lo ammetto per ogni volta che lancio colpo vedeva la terra da l'altro terzino ma lui si tocca corta non è che la dà così lunga cioè l'ha allungata tanto e qui hanno dominato ovviamente facciamo i cambi che non mi va che non allora Federico per ora mettiamo Jesus o si mene davvero anzi davvero penoso anzi davvero penoso poi nonostante si riposa pure lui mettiamo così spinta mettiamo anche po' i tatti perché è impossibile persino in costante ampiezza anzi un po' di profondità vabbè facciamo tutto così com'è due cambi così vediamo se Jesus fa qualcosa Jesus vincono a zero sono imbattibili o si mene vuoi fare il tuo lavoro all'esterno fa tutto valeri guarda qui va perché mi è sempre così male tieni la pavarda vabbè e vabbè io dalla cosa a Jesus da cavallo a vener guarda come mi togli per andare a tornare così ci sono davanti e quello passa mi passa come se fosse un vissino è fuori gioco mi ha anche parato il fuori gioco mi ha anche parato il fuori gioco tutto fermo tutto fermo tutto fermo tutto fermo ovviamente tutto fermo dai tonali dai tonali esisti timo perché l'ha da timo se l'aveva passata perché 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 evidentemente mi ho perso lo figlio sarà contentissimo per il mio giro del cavolo questo mi fa ancora più il mirsalire cioè guarda guarda gioco tutti di prima dai dai ma che cos'è questa cosa ma che cos'è questa cosa del geno che gioca di prima guarda come gioca di prima due minuti di recupero con il sito mi hanno dato tre mandati con il sito mi hanno dato tre mandati con il sito mi hanno dato tre e ha fatto tre cambi a noi due grande il geno grande cioè veramente è vergognoso ok ho fatto il mio errore che assente dopo la faccia di cavolo ma che faccia c'è a questo Machias che ha preso 8 così ha preso 8 ha preso 8 certo guarda che è bello 8 per un tiro fatto un gol cioè un tiro ok ha fatto il gol del cavolo vedete i foto dei miei giocatori tutti i set tranne il simile che ha fatto male che è stato da poco cioè ho simile deludente e ora il fi per contento ho perso la prima volta saranno contentissimi saranno contentissimi ragazzi ai 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 cioè prima questa squadra la di sebe era la mia squadra che avevo la mia squadra ora invece ma che cosa vuoi Pogba ci c'ho la shame ci c'ho non voglio prendere il morale perché poi va male e mi butto non provi ma che cosa dici va vabbè hanno fatto un tiro un gol buono hanno fatto poi l'errore è il portere mio è il portere grazie al suo gran c'è proprio un gioco in più possiamo manciare e cosa perché non c'ho non c'ho donni mi mancano c'ho lampissi manca donni perché mai l'avventura è cotto non posso giocare tolare è quello che voglio giocare andiamo un po' avanti andiamo un po' se la mia squadra ci sarà fresco o sono tutti stanchi giocando pochissimo dare poi l'errore tra l'altro cioè non so che dire vince 2-1 col City anche con l'Ipsia no col Red Bull e Salisburgo che a scuola poi fotte in un po' scarsa che in Champions vinciamo 4-0 ora col Genoa non c'era anche andiamo a fare 1-0 sotto 1-0 sotto è una scuola mia Benner è stanco non è stato ottimo c'è giusto pochissimo un gesto pure il resto di più lo sto corso ok così me ne sono andato a mettere da parte Cavani non voglio più vedere oggi mentre mi ha deluso tanto domani appetito ci sarà donna ancora non donna donni porca miseria quanto deve mancare donni per tornare quanto deve mancare cioè devo tornare ad aprile siamo già a 13 aprile c'è 4 mesi dal gennaio 14 aprile sono aumentate pure sono aumentate vediamo un po' i miei donni dov'è donni eccolo qui c'è un altro mese c'è torna a maggio era 4 mesi a gennaio all'inizio gennaio quindi gennaio febbraio marzo aprile ora c'è maggio eh sì ho fatto la quarantena che volete c'è già avendo donni in più avevamo un giatore straordinario per fisico e tecnica purtroppo niente dopo aver non ci ho messo dei sogni allora dobbiamo sperare di andare avanti perché qua settimana e quindi oggi è il 13 maggio tornerebbe lui il 13 giugno quindi se mette quella coppia di Italia che non so perché ti gioca dopo il campionato di gioco domenica e prima la florentina corsi proprio perfetto proprio per dire devi renderci con riserve io vorrei sto mettendo tutto sulla Champions e sullo scopo perché lo scorretto è lontanissimo per delle partite banali perse pareggiate che non so non ho parole allora il Tottenham e la Juventus più e passa il Tottenham batte il Napoli va bene risposta la Juve e l'Inter rischia che ci siamo noi quindi in pratica l'unica che la Juve è stata l'Inter l'unica che potrebbe fare qualcosa oltre la Juve potrebbe essere noi e poi lasciarci la Juve in semifinale sarebbe spettacolare siamo ancora a terzi anche l'on ho perso il Napoli Montecalcio ha 14 punti ovviamente ormai non perde più non perde più una partita cioè questi giocano con tutto il vincolo la Tante ha batte 2-0 la Rona è in casa ok grazie San Pedro 2-1 con me ci pareggio e lo fanno 2-1 e questo è anche il Napoli perde contro il Napoli cioè il Pionti perde vince con il Napoli che a me fanno una una in casa queste merda di squadre che con me devono fare i miracoli di culo vero e con 12 peto va bene ragazzi dopo questo episodio penso a sapere qui invito a lasciare un like se vi è piaciuto a commentare a dire la vostra in cosa non avete fatto iscrivete al canale e attivate la campanellina se vi lasciate le notifiche a video che usciranno e vi ricordo anche se vi è piaciuto su Twitch dove fare live e su vari social come Twitter Instagram Facebook così sapete più sul lavoro detto questo ragazzi al prossimo episodio dal prossimo interri passo chiudo